Praticamente c'è questo sito che si chiama Escort Advisor Sa che cos'è Escort Advisor? Cos'è? Escort Advisor Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa e di recente ha diramato la classifica dei 30 migliori e 20 peggiori comuni italiani per qualità di incontri con le escort Qual è il migliore? Secondo me la campagna è il primo Ma credo che Milano sia davanti a tutti Devi dire che tipo di donne partecipano a questa cosa, no? E quindi prima di arrivare a leggervi la classifica capiamo bene di cosa parliamo Sai cos'è Escort Advisor? Forse Escort Advisor non so cosa sia Non hai sentito parlare? È molto cliccato, è molto visto Recensioni Recensioni sulle escort In pratica tu... Dai dei voti, dai dei voti alle escort, no? Che cosa sono brave, se voi si credo Due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle Hanno fatto anche il forco di escort Esatto, così come normalmente recensiamo un ristorante, un hotel o un professionista qui si recensiscono altri tipi di professioniste A noi una volta serviva il tatto, no il clic I ragazzi oggi viaggiano col clic La classifica si basa sulle recensioni scritte dagli utenti in seguito alla propria esperienza Devi dire che tipo di donne partecipano a questa cosa, no? E tiene conto della città in cui è avvenuto l'incontro Infatti sul sito ci sono recensioni anche nei comuni più piccoli Secondo te qual è il comune migliore in Italia? Tromboli Hanno delle stromboli Abbò tromboli, stromboli Siamo là, eh Secondo te qual è il comune d'Italia che è primo in classifica? Comune Milano Secondo me Napoli E beh, forse per l'escorto un comune del nord Ah, probabilmente Milano Ma io penso che a Versa, Giuliano, quella zona là Pursa, Purnate, Chiavari Fate, Chiavari è forte Ma non dimentichiamo che c'è anche la classifica dei 20 peggiori Quali saranno? Quali peggiore? Che può essere? Foggia Puglia Calabria e Puglia Io dico Valle d'Aosta E i peggiori siamo sempre noi a sud Potrebbe essere qualche comune del Trentino Alto Adige Vi sorprenderebbe sapere quali sono i parametri presi maggiormente in considerazione per le valutazioni? Perché oltre alla pulizia c'è per esempio quello della socializzazione Cioè quanto una ragazza crea un feeling con il cliente Uno dei parametri di valutazione più diffusi è se c'è parcheggio nelle vicinanze Addirittura Non stavo scherzando, è tutto vero Tu che parametri adotteresti se dovessi recensire? Beh, aspetto fisico, altezza Qualità, quantità e perseveranza Allocation Il posto Si sta bene o meno a 90 Cioè comunque pure quello Se si blocca a 80 non va buono Hai capito? Lui ce la trovai Su quanto assomigliano le foto che mette? Tu escort Devi fare l'escort Ma non ne fa capire casino escort Quindi il parametro sale quando tu più stai bluffare Ci deve stare un bel feeling nel rapporto Da dove vengono? Perché sudamericane a parlare La pulizia della persona Della ragazza Cioè se è da lavare E poi è proprio forza Una da fotì Più di altro Ah fotì 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 Le qualità Le capacità amatorie Insomma Ma questo non conta niente Tanto è tutto veloce Insomma le cose finiscono in breve Insomma Nel suo caso diciamo Nel mio caso Soprattutto dopo i Amta No? Quando tu vai dopo i Amta I tempi si abbreviano E allora eccola la classifica Partiamo dalle peggiori La peggiore d'Italia è Potenza Seguita da Lecco Quindi non proprio così bene E Benevento Fermate il video per leggerle tutte Per quanto riguarda le migliori Al quinto posto c'è Viareggio Al quarto Conegliano Al terzo Gallarate Al secondo posto Civitanova Marche Maazze sì Nelle Marche sapevo che non ci stava niente Invece stanno nelle migliori escort La facevo più nelle top 5 degli scambisti Ah ecco Le Marche le vedo bel piazzate Nella classifica degli scambisti Pensavo che ci stavano tanto agendo in Marche Penso che quest'estate faccio una bella giro Là nelle Marche E al primo posto della classifica Dei migliori comuni italiani Per qualità degli incontri con le escort Si qualifica De Senzano del Garda E chi ci sta a De Senzano del Garda? Il Capretto Vabbè De Senzano del Garda Molti industriali stanno lì De Senzano del Garda? Secondo me è una città Lo stai dicendo chi ne so Ma è un posto meraviglioso Sul lago Uno si rilassa De Senzano del Garda Che ghiè? Che ghiè? E i paesi che stanno a De Senzano del Garda? Mi aiuti a dire? Eh 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 Non quel Ed ecco i dati completi Iscrivetemi nei commenti Se la vostra città fa parte di una delle due classifiche La mia sì Salvezza tranquilla Napoli è diciannovesima Eh nebbia Ventesima quasi quindi malino Quindi siamo rovinati Se siete arrivati fin qui Sostenete Alici con un mi piace a questo video Io vi lascio con un'impetuosa polemica politica Questo governo lo sappiamo no? E' nato con le escote E' nato e ha prolificato Con la crescita delle escote Quindi perché poi Questo governo non ha voluto più alimentare Questo mercato? E' una domanda da portare a Bruno Vespa